Ponti della provincia di Agrigente, allarme e sicurezza. Il libero consorzio comunale ha completato l'azione di monitoraggio nelle strade di sua competenza, provinciali, ex consortili ed ex regionali. Si tratta di un processo già avviato da qualche anno in sintonia con il Dipartimento regionale della protezione civile, ma che nelle ultime settimane, dopo gli incontri con il Presidente della Regione e l'assessore regionale alle infrastrutture, ha avuto un'ulteriore spinta per individuare le criticità sulle quali effettuare interventi di diagnosi ed eventuale manutanzione straordinaria. Un primo elenco di criticità è stato trasmesso dal libero consorzio e riguarda le strade dei comparti ovest e centro-nord, sulle quali alcuni ponti presentano evidenti problemi strutturali. Stamani le schede tecniche corredate da relazioni, foto e altri elementi utili sono state inviate all'assessorato regionale alle infrastrutture, che sulla base delle indicazioni del consorzio valuterà la messa a disposizione di finanziamenti regionali per le indagini propedeutiche indispensabili per pianificare tutti gli interventi di messa in sicurezza e di eventuale ristrutturazione. Intanto, con decorrenze immediate, il CAS ha disposto lungo l'autostrada Messina-Catania, direzione Messina, la viabilità su un'unica corsia centrale, lunga 3,2 km, in corrispondenza dell'area compresa tra Briga e Santo Stefano. La modifica della circolazione, spiega il consorzio, si è resa necessaria per poter svolgere tutte le opportune verifiche delle condizioni strutturali delle pile del viadotto Santo Stefano, lato mare e direzione Messina, segnalate da più parti. L'ufficio tecnico ha effettuato i dovuti sopralluoghi, inclusi i rilievi fotografici, ed ha ritenuto di procedere ad ulteriori e più approfondite verifiche, anche per i conseguenziali lavori di ripristino dei luoghi. Lungo tutta l'unica corsia centrale è stato posto il limite di velocità di 60 km e il divieto di sorpasso.